Il borgo di Sassetta è uno dei più piccoli della provincia di Livorno in Val di Cornia. È caratterizzato da un ambiente aspro e selvaggio che conferisce al luogo un'atmosfera poetica e rostica. Il tempo qui sembra essersi fermato, preservando così un equilibrio arcaico tra la terra, l'uomo e la natura. Questo minuscolo borgo si trova a metà strada tra i comuni di Castagnetto Carducci e Monte Verdi Marittimo e la sua posizione offre panorami mozzafiato sulla campagna circostante, dove la natura incontaminata la fa da padrone. Rigogliosi boschi, verdi colline e sentieri panoramici offrono opportunità per escursioni, passeggiati e attività all'aperto. Gli amanti della natura troveranno qui un ambiente tranquillo e rigenerante, lontano dalla routine quotidiana, immersi nella bellezza della natura e della storia medievale. Noi ne siamo rimasti davvero affascinati e tu lo conoscevi?